Ecco per il secondo tempo di Neapolis, furie rosse, 10 a 6 per le furie rosse Scarano sulla palla per l'entratarcia del portiere, su Scarano Proprio lui sulla battuta, Scarano Ecco Scarano Pronto Scarano la dà in mezzo per Amato che anticipa Ancora ricordiamo 10 a 6 Ecco che può ripartire il Neapolis Fiacca un po' il suo tacco Ecco Scarano con palla al piede, Scarano brucia Per poco Scarano fa fuori il difensore del Neapolis con uno scatto Ecco il portiere, vede il compagno che si precipita in avanti ma il risultato è zero Può ripartire furie rosse con Di Lorenzo Passaggio non destinato benissimo a Scarano Si appresta a battere per messa laterale Il portiere però che sbaglia, Scarano viene chiuso Può ripartire il Neapolis 3 contro 2 Saracino temporeggia, torna indietro, in nuovo al portiere Portiere palla al piede, vuole un inserimento Saracino non ci arriva Ecco Scarano Scarano vede Amato Protagonista di questa partita, Amato Si fa soffiare la palla Ancora rimessa per le furie rosse Ecco Amato palla al piede, vede l'inserimento di Lorenzo Ma Di Lorenzo non viene servito Sbraccia un po' Di Lorenzo Capasso, autore di un'ottima partita Due gol per lui Ancora Capasso sul passaggio di Lorenzo Capasso punta la porta Benissimo Ottima prestazione Ricordiamo che Capasso manca da ben 5 mesi sul campo La sua prima serata Dimostrato di essere subito in forma Ecco il Neapolis con Saracino Saracino non trova la porta Ecco Scarano Scarano sempre una fortezza in difesa Non sbaglia mai Per Di Lorenzo Di Lorenzo per Dario Amato Cosa si divora A tu per tu con il portiere Cosa si divora Ottimo Capasso Recupero di Capasso Ancora Capasso Capasso finta Ad Amato Un'ottima partita Tu per tu con il portiere Ma il portiere esce Prende il pallone Ma Amato Un calcio di rigore Un fallo All'arbitro non è dello stesso avviso Di Lorenzo Prova La traversa Smanalcia il portiere Poi sulla traversa Ancora Amato Ma Caparbio Ah Sprecano un'ottima occasione Caparbio E testa dura Giocatore del Neapolis Di Lorenzo Ancora sbaglia l'appoggio Per Amato Ottimo tiro Porca 10-7 Gran tiro di Saracino Come Non dice pure Ecco Amato Un tiro a portava centrale Nessun problema Per il portiere Numero 3 del Neapolis Ancora palla al piede Ma Si complica un po' la vita Ecco Amato Che La sua stizza Il pallone colpisce l'arbitro Scarano sulla battuta Di Lorenzo Di Lorenzo Vedi Amato 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 di solo Amato Amato Angolo Per le furie rosse Le furie rosse Che attaccano Benissimo Ecco Scarano Stoppa palla al piede Qualche tifoso ricorda Scarano Che La porta è quella lì Bianca Ottima traversa La parte del cupino Ancora non è finito Saracino Anime e cuore Di questa squadra Saracino Ecco Capasso Palla al piede Capasso Per Amato Amato Entra duro Il difensore del Neapolis Amato per Scarano Impeccabile questa serie Amato Ed è inserimento di Di Lorenzo Di Lorenzo Prova il tunnel Ecco il contropiede Il contropiede Il cupino Il cupino Il suo aggancio Non è uno dei Non è dei migliori Ancora Capasso Sto per il numero 3 del Neapolis Accocciuto Il cupino Non molto lucido Davanti al portiere Ecco ancora il Neapolis In attacco Il portiere Delle furie rosse Da un buon segno Da segni Quasi di cedimento Poco lucido Amato ancora Amato Prova il tunnel Ma Sarracino Ecco il cupino Davanti al portiere Ma sbilenco Come tiro C'era da solo Il suo compagno Ecco può sfruttare di Lorenzo L'azione del contropiede Ma una finezza Prova a Scarano Che poi Si butta la palla Proprio fuori Ecco il portiere Ancora per Sarracino Sarracino Rischia qualcosa Non dà una palla perfetta Al compagno Che sbraccia Ecco Non si è capito una mazza Di quello che dice Sele 10 e 7 Mi chiede quanto manca Capasso Capasso Prova una magia Capasso va via Ancora il cupino Ancora il cupino Potrebbe darle e mezzo Il cupino Dà e mezzo Ma c'è Capasso Uno dei migliori Ecco di Lorenzo Può ripartire Può provare Ma vede Capasso Ottima visione di gioco Capasso Ancora una finezza Per Amato 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 temporeggia di sola Ancora di Lorenzo Possesso Palla Delle furie rosse Ancora Di Lorenzo Prova una magia Ancora di Lorenzo Salta 2 Salta 2 Salta 2 Tu per tu con il portiere E c'è il gol di Amato Gol di Amato Rete Rete di Amato Rete è ottimo Che grande azione Per il gol di Di Lorenzo Che ha fatto tutto da solo Di Lorenzo Ha dovuto appoggiare solo Dentro alla rete Amato Ottima azione Da Real Madrid Ancora di Lorenzo Di Lorenzo Di Diagonal di Lorenzo Lada e mezzo Ma il portiere c'è Troppo facile per il portiere Ecco Ancora Capasso Ottima partita Ottima partita Di Capasso A suo esordio Si presenta benissimo Qualcuno dovrà accedere Il posto A Capasso Sicuramente Scarano Si dispera Ecco Scarano Subisce fallo Ma rimane in piedi Applicata la regola del vantaggio Ma poi perde parla L'arbitro fischia il fallo Di Lorenzo Sul pallone Ferma il pallone Sembra voler tirare Ecco Di Lorenzo I tifosi acclamano il tiro Ecco Di Lorenzo Per poco Di Lorenzo Ma viene sfiorato Viene sfiorata la palla Allora è d'angolo Ecco ancora in mezzo L'aggancio mancato One run Ecco ancora il Neapolis Ecco Amato Amato punto Sarracino Amato lo salta Ma trova il piede Del Cuppino Qua Di Lorenzo Sulla battuta Vede l'inserimento Di Amato Amato Di Lorenzo Sulla battuta Bravo Scarano La risposta del portiere Il portiere c'è Ancora Di Lorenzo Per Scarano Amato intercetta Questa palla Che era per Sarracino Ottimo tacco di Sarracino Si presenta Come al portiere Ecco Amato Ce la può fare Alla da in mezzo Ma non c'è nessuno Chiudiamo questo collegamento Dal campo Maracanà Buona serata a tutti Grazie Grazie Grazie